Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi come ogni venerdì di promo andiamo ad analizzarci i nuovi headliner Onestamente mi aspettavo, già vi dico, qualcosina in più rispetto a quello che effettivamente è uscito La vera notizia rilevante è che essendo questo solo il primo team di questa nuova promozione Settimana prossima avremo la seconda ondata e quindi credo che l'evento che tutti quanti stiamo aspettando Ovvero quello dei Toti sarà posticipato insomma e dovremo un attimino aspettare di capire bene il quando Ci andiamo ad analizzare in questo video come al solito le nuove carte uscite Ci andiamo ad analizzare anche la nuova SBC di Robben e il nuovo pass Quindi mettetevi comodi perché sarà come al solito un video un pochino più lungo del solito Non perdiamoci in chiacchiere, passiamo subito a vedere il primo giocatore di questa promo Che è proprio Bruno Fernandez Una carta che insomma ormai abbiamo avuto modo di conoscere tutti quanti 91 di overhaul 4-4, alto alto, 1,79m Come funzionano questi headliner prima di tutto? Gli headliner non sono altro che una versione upgradata di un punto di valutazione E un punto statistico rispetto all'ultima versione inform disponibile Per informe vengono intesi anche i men of the match, i team of the group stage e quant'altro Non si intende per inform based, toti, tots eccetera eccetera Quindi ogni qual volta queste carte prendono una delle carte che vi ho menzionato in precedenza Prenderanno un più un automatico per stare sempre un gradino sopra Quindi fondamentalmente non è che riceviamo questo grandissimo boost statistico per Bruno Fernandez Quello che mi sento di dirvi è che essendoci quest'ulteriore versione che è scambiabile Quella del Bruno Potm perde assolutamente di valore Perché parliamo di una carta che a quel punto è non scambiabile Che ve la andate a sbloccare e vi rimane sul groppone Qualora voi vogliate andarla a cambiare più avanti nel gioco Magari con la sua versione tozza eccetera eccetera Quindi avendo la possibilità di sbloccare questa, di andare a comprare questa Se proprio dovete scegliere un Bruno Anche se per me già dall'89 sono tutti validi Andate a prendere questo Quindi non essendo una novità Parliamo di una carta super super valida Direi di passare rapidamente oltre Dove ci attende il buon Fabigno Fatto in versione difensore centrale Una carta molto ambigua visto che senza andare troppo a scavare nelle statistiche Ci basti sapere che ha 68 di accelerazione 70 di velocità scatto Per cui un difensore a mio modesto modo di vedere totalmente inutile Visto che in velocità non recupera nessuno Ha 67 di agilità per cui è anche molto piantato 66 di equilibrio Insomma una carta un po' ambigua Che è anche difficilmente linkabile E in quel ruolo abbiamo ad esempio il buon Gio Gomez Che è un sempreverde Abbiamo Virgil Per cui sto Fabigno secondo me Potevano tranquillamente risparmiarselo Prossima carta invece è il buon Beyheader Ovviamente anche qui non è che stiamo a scoprire nuovi talenti Carta che conosciamo tutti 1,70 m alto alto 4 di skill e 5 di piede debole Per il buon Beyheader Che anche quest'anno riceve l'ennesima carta speciale Rispetto alla carta IF riceve questo lieve aumento statistico Carta che è assolutamente valida Così come lo era l'IF Visto che comunque in questo meta Siamo ritornati un attimino a cercare lo scambio tra le due punte Ad avere l'attaccante agile Il 5 piede debole è ritornato abbastanza in boga Anche se secondo me risente un po' del suo 1,70 Che non gli permette di prendere queste grandi porzioni di campo Con magari un doppio passo Eccetera eccetera Quindi bene ma non benissimo il buon Beyheader Ma comunque rimane un'ottima carta Altra carta interessante Estozza 1,80 m Normale normale 5 di skill e 3 di piede debole Questo ve l'ho proposto anche in video precedenti Per me è assolutamente valido Soprattutto in fascia Può giocare tranquillamente anche da punta Anche se non lo consiglio per via del piede debole Però quel 5 skill Diciamo che gioca a suo favore È una carta che messa soprattutto a correre il suolo fa Perché non è neanche così basso Quindi Ampiezza dei movimenti ce l'ha Quindi fake shot fa bene Doppio passo fa bene Può fare elastico Reverso elastico Eccetera eccetera Quindi Questo qua è uno di quelli Che si può magari pensare di andare a acquistare Tra le carte Tra le carte uscite Altra carta abbastanza ambigua Insomma Stoyar Zabal Perché tanto Esterni spagnoli Non è che se ne utilizzino più di tanto Dalle statistiche Mi sembra abbastanza average In quel ruolo abbiamo magari un Carrasco Che costa anche meno Parliamo di una carta di 1,81m Con 3 di mosse abilità E 3 di piede debole Quindi già questo Poi addirittura 80 di freddezza Quindi parametro molto al limite Non è che sia questa scheggia Per carità poi Statisticamente a livello di tiro Non sta messo manco male Anche per quanto riguarda agilità Dribbling E quant'altro Ma Insomma Non vedo il motivo Per il quale andare ad acquistare Stoyar Zabal E anche qualora ve lo ritrovasse Non scambiabile Non lo metterei titolare Né tantomeno ci farei Follie Per farlo Per farlo giocare Quindi Direi che questo È uno di quelli Più che bocciati Di questo Di questo gruppone Altra cartina interessante Invece Stoyoao Felix Che riceve anche in questo caso Un'ulteriore versione speciale 1,81 5 di mossabilità 4 di piede debole E diciamo che questo qua Va a fare concorrenza Alla versione Potm Versione Potm Che comunque Non è che costava tantissimo È 87 Quella Quindi soprattutto Con i premi della Food Champions Si va di picca Eccetera eccetera In un periodo in cui aprite Magari dei pacchetti Non scambiabili Può essere fatto A un prezzo inferiore Rispetto all'86 Headliner Per cui Ragionerei anche in questo caso Se andare a comprare Stoyoao Felix Che comunque Vi ripeto È una carta valida C'ha buone statistiche di tiro Buone statistiche di passaggio corto Un po' meno e lungo Ottime statistiche di agilità Vi ribadisco Quello che ho detto Per Giooao Felix Potm Questa è una carta Che per me va giocata O da C o C O da seconda punta Un po' meno da esterno Ma comunque Con il suo metro 81 Potete provarlo anche in fascia Anche se non è così Rapido ed esplosivo Nei movimenti Però per il resto Un buon giocatore Diciamo così Vista anche la nazionalità E il ruolo Altra carta Diciamo mezza buona È sto Bamba Che Esattamente Praticamente Il doppione quasi Del pot Però appunto È scambiabile Quindi in quel caso Questa cosa gioca a suo favore Un 4-4 Alto alto Che se vi serve Un giocatore di fascia Può anche dire la sua Come vi ho detto Nel video Per quanto riguarda I migliori esterni pretoti E Un pensierino Se vi serve Un giocatore francese Ci può anche stare Visto che Linka benissimo Anche il buon Renato Sanchez Buone statistiche di tiro Ottime di velocità Anche se ho riscontrato Che non è che si Speedboost Benissimo Mentre per quanto riguarda L'ampiezza dei movimenti Già andiamo un po' meglio I passaggi sono buoni Agile Non è agile Quanto dice la carta Almeno da quello Che ho avuto modo Di provare io Quindi carta discreta Ma non da fenomeno Diciamo così Altra carta invece Che Solite 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 Che era Il palato Di quelli che magari C'hanno una serie A Mkhitaryan Piede destro Però C'ha un bel 5 di piede debole Un 4 di skill Un metro e 77 Parte in posizione di AT Statistiche discrete di velocità Ottime stats di tiro Ottime stats di passaggio Agilità bene Anche per quanto riguarda Equilibrio eccetera eccetera Questa è una carta Che può essere impiegata Da C o C tranquillamente Ma in una serie A Non vi dimenticate Che avete in quella posizione Magari anche un Papu Quindi se la va a giocare Con quei giocatori lì Sicuramente non è che Ce lo vedo proprio bene 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 in fascia Visto che non è così rapido Come vi dicevo Non è così ampio nei movimenti Magari volendo Si può utilizzare da seconda punta Ma anche qua Non parliamo di giocatori Game changer Va Definiamoli così Sono tutti quanti Di giocatori discreti Ma mi aspettavo Un acuto in più Da questo team E effettivamente Non c'è stato Così come Mi viene abbastanza male A commentare Questo Radecki Headliner Che insomma Veramente non può circolare Così mi viene male A commentare Sto inter-hegger Che non può circolare Peggio di Radecki Voglio dire Non so cosa è saltato in testa I signori dell'Ie Quando hanno pensato Di far uscire queste carte Tra l'altro Questo mi pare pure Mezzo ambivo Va bene Signor Radecki La sto guardando E non guardi Va bene Non si preoccupi Andiamo avanti Altra carta Questo Jordan Amavi Terzinaccio francese Della Ligand Con 83 di velocità 79 di freddezza Insomma Anche lui si commenta da solo Perché a sinistra Di terzini francesi Voglio dire Abbiamo Mendy Abbiamo Tevernandez Insomma Andiamo a mettere Amavi Squadra Con tutto il bene Che gli posso volere A Jordan Non te la prendere a male Ma con tutto il bene Ripeto Anche qua Parliamo di giocatori Che sinceramente Non trovano Proprio alcun tipo Di Utilità Nel gioco Se non essere riciclati In SBC Se ce li avete Non scambiabili Passiamo invece A un altro giocatorino Che magari Avrà fomentato Sto Robben Che io già lo so Che mi Tempesterete di domande Per non dire altro 1,80m Normale Basso Piede sinistro Manca a dirlo Perché col destro Ci scende solo dal letto Difatti C'ha 2 di piede debole 5 di skill Io adesso Robben Che tu mi guardi così E mi sorridi Ma che ti devo dire Cioè Ti eri ritirato Era meglio Con tutto il bene Che ti posso volere Rimanevi ritirato Cioè Con 2 di piede debole Ma dove vai Dove vai Per carità Sei veloce C'hai pure buone stats di tiro Sarai agile Sarai quello che ti pare Ma io non ti vado a sbloccare Cioè In un periodo del genere In cui sono talmente Tante carte Poi magari per ride Si può anche pensare Di prendere E mettere come sub Da esterno Ma non vi pensate Di giocare titolare Con sto Robben O al massimo Se siete dei fanatici Vi sbloccate Sto Robben a destra A sinistra Ci mettete in signa E giocate a rientrare A uno sul mancino A uno sul destro Tiri a giro E via E facciamo il meme dell'anno Però insomma Sto Robben Anche qua Parliamo di una carta Molto molto Così Che mi lascia perplesso Andiamoci a vedere Invece il Il nuovo pass Il nuovo pass Stagionale Ancor più FIFA Va bene Mi avete dato una difesa Che Poco Ci interessa Va bene Va bene Signori della EA Andiamoci a vedere Invece Il nuovo pass Che dovrebbe essere Stato rilasciato Eccoci qua Progressi Stagione Vabbè Tolte le solite cose Vichinghi Gli orsi Cose epiche Il circuito stampato Va bene Freddo glaciale Benissimo Arriviamo alle prime cartine Che so che già Vi stanno lì A solleticare L'appetito C'abbiamo Stodankan Che è un metro e settantotto Normale alto 3-3 Voglio dire Velocità Possiamo anche Accettarla Passaggi Devo dire Ottimi passaggi Mi sembra anche Discretamente agile Ottime statistiche Difensive Ottime statistiche Anche di fisico Vi devo dire la verità Che già Ad una prima occhiata Questo mi sembra Il più valido Soprattutto in ottica Magari anche Super sub O in una serie A Potete utilizzarlo Come titolare Low cost Perché sto Taub Qua per carità 4-4 1,79 Voglio dire C'ha anche delle stats Devo dire Non male Perché veloce Mi sembra veloce Un tiro Non se la passa male Col passaggio corto Siamo ok Col lungo Come al solito Così e così Però abbiamo 76 di freddezza 92 di forza Che lo fanno diventare Un tronco Quindi lo bypasserei Tranquillamente E poi abbiamo Questo simpaticone Di bagambù 4-4 1,82 Che gli hanno fatto Sta versione bustata Per ricollegarci Alle fils Di FIFA 19 80 di forza Che quindi Anche qua Si va un po' a piantare Freddezza al limite Equilibrio 77 Secondo me Non è così agile Visto che è anche 1,82 Potenza tiro E finalizzazione Ok Passaggi discreti Voglio dire Niente di che Questo bagambù Con tutte le carte Che girano Il ruolo offensivo Direi che a livello 15 Andrei a sbloccare Il buon Duncan Intanto qua abbiamo Altre cose epiche Lo ieti Il ghiaccio Il pupazzo di neve La volpe artica Va bene Come al solito Per arrivare poi A livello 30 Salutando il nostro amico Pupazzo di neve Dove abbiamo Il buon Pulisic Che non mi sembra Per niente male 4-4 1,77 Una carta Rapida Anche dalla discreta Finalizzazione Peccato il passaggio lungo Molto agile Ovviamente Peccato il 77 Di freddezza Anche in questo caso Ma questo qui Può fare tranquillamente L'esterno Da super sub Perché insomma Da titolare Non è che ce lo vedo bene Abbiamo sto Alla sample Anche lui 4-4 1,81 Un giocatore Anche in questo caso Insomma Discreto Buone stats di velocità Ottime stats di tiro E finalizzazione Passaggio corto Ok Lungo come al solito Un po' così Ottima la freddezza In questo caso Il parametro di forza 80 Lo va un po' a piantare Per terra E questo c'è pure un body type Abbastanza cinghialesco Quindi occhio Però anche qua Una carta che insomma Statisticamente non sembra male Ma tra i due al momento Preferirei Pulisic Mentre in ultimo Abbiamo Emerson Che Vi dico L'anno scorso Era un bel terzino 1,81 Alto normale 3-3 Ma quell'alto Come avete visto Io uso Cancelo Quindi non è un grosso problema Accelerazione ottima Ottimi I passaggi corti Un po' meno È lungo Ottime anche le stats Di agilità Equilibrio Reattività Ottime le statistiche Difensive Ottimo anche il parametro Di aggressività Devo dire di forza Quindi Per quanto riguarda Il livello 30 Direi di andare a sbloccare E a mani basse Sto Emerson Visto che comunque In liga C'è una moria Per quanto riguarda Terzini destri Perché Tolto quell'Alex Moreno Freeze Che è uscito A memoria Correggetemi se sbaglio Ma Non mi sembra Che ci siano Questi gran terzini C'è Carvacal Trippier Ma Voglio dire Sto Emerson Mi sembra Sicuramente La cosa migliore Che possiate andare a sbloccare Se siete tra yarder Che riuscirete ad arrivare In fondo al pass Io penso che In due anni di FIFA Che hanno introdotto sto coso Il pass livello 30 L'ho visto solo col cannocchiale Quindi Niente raga Per questo video È tutto Abbiamo analizzato un po' Tutto quello che è uscito Alle 19 Io Vi saluto Vi auguro Buon anno Visto che in teoria Il video esce Boh Verso le 7 e mezza 8 appena è uscita la promo È ancora primo dell'anno Vi ricordo di lasciare un like E un commento Fatemi sapere che ne pensate Onestamente Devo dire Sono un po' deluso Da questa promo Vediamo il team 2 Se la salva un po' La situazione Trovate in In descrizione Tutte le info Per le live giornaliere E nulla ragazzi A me non resta altro Che salutarvi Ciao ciao